Siamo a San Marzano di San Giuseppe con l'onorevole Antonio Bruno, già sottosegretario, e ora candidato per il rinnovo del Consiglio regionale pugliese con la lista scelta civica a sostegno del governatore uscente Michele Emiliano. E allora, onorevole Bruno, intanto il motivo, le ragioni di questa sua candidatura. Ma sono semplicissime, le racchiudo in due parole. Ritengo che sia necessario anche scendere in campo come ho fatto io, alla leggezza età superiore a 70 anni, sia necessario perché di fronte a tanta incapacità governativa regionale e nazionale, ma adesso parliamo solo di regionale, io penso che un po' di sicurezza, un po' di esperienza, un po' di impegno diverso rispetto alle parole e alla politica delle parole che io rappresento come politica del fare, politica dell'impegno quotidiano, politica dell'impegno quotidiano in mezzo alla gente. Non mi sono mai staccato dall'essere vicino ai cittadini e quindi ho deciso, su spinta dei miei amici socialdemocratici pugliesi, di fare questa campagna elettorale, che sicuramente è molto difficile, ma nello stesso tempo ha rivitalizzato la passione per la politica e quindi queste sono le ragioni che mi hanno portato a ricandidarmi per le regionali per la prima volta.